Appassionati del Grande Fratello? Oggi abbiamo una puntata speciale, carica di sorprese e nuove entrate. Ma prima, se non volete perdervi gli aggiornamenti più succosi dal mondo del reality, cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale. E ora, scopriamo insieme le novità di questa settimana. Al Grande Fratello, il countdown natalizio è iniziato, ma il regalo più grande arriva questa sera, nuovi concorrenti entrano nella casa. Tra di loro, c'è Sergio Dottavi, un DJ e imprenditore con un cuore che batte per i viaggi. Ma chi è davvero Sergio? Un giramondo di 31 anni, con un Instagram che esplode di follower dopo l'annuncio della sua partecipazione. Da Sabaudia e lead esotici di Maldive e Los Angeles, Sergio ha vissuto avventure incredibili. E non dimentichiamo la sua passione per il surf e il legame speciale con la mamma. Oltre a Sergio, ci saranno altri ingressi clamorosi, come lo stilista Stefano Miele. E non finisce qui. Ci aspettano coreografie mozzafiato, sorprese natalizie, e l'arrivo della famiglia Maddaloni per un momento davvero emozionante. Chi si salverà tra Federico, Greta e Marco? La tensione è alle stelle. E ora? Una domanda per voi. Cosa pensate di queste nuove entrate? Lasciate un commento e condividete le vostre opinioni. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e attivate la campanella delle notifiche. Vi aspetto al prossimo video. E nel frattempo, buone feste a tutti!